Oggi un amici di Facebook. Allora, vlogghettino super veloce, più o meno veloce, in cui vi mostro un computer incredibilmente bello e significativo per la storia di Apple, che ho cercato per tutto l'anno da quando si vociferava che il nuovo iPhone, con il quale lo sto riprendendo ora tra l'altro, il nuovo iPhone avrebbe avuto la scocca in titanio. Perché il titanio è un metallo molto particolare per la storia di Apple. Non tutti sanno che il primo computer in metallo di Apple era proprio in titanio, poi si passò all'alluminio. Vi racconto tutta quanta la storia di questo particolare computer in Epic, che sto finendo proprio questa settimana, la mia ultima settimana diciamo utile per impaginare il libro prima di mandarlo in stampa e di consegnarvelo il prossimo dicembre. Preordinate Epic 2, mi raccomando, se volete scoprire la storia di questo e di tanti altri oggetti interessanti. Mi ha un po' sconvolto tutta quanta la scaletta, questa roba, perché non l'ho trovato fino all'altro ieri e pensavo di non metterlo più e invece alla fine l'ho trovato. Averlo trovato mi sconvolge l'indice, ho dovuto togliere altre storie perché Epic ha una lunghezza standard in tutti i suoi numeri, ma ne varrà la pena. Ne varrà la pena, questo cambierà un po' le cose in Epic 2, ho tolto storie e luoghi, praticamente sono solamente oggetti, ma va benissimo, va benissimo perché sono tutti quanti oggetti molto belli che loro stessi hanno una storia bellissima da raccontare. Quindi andiamo di sotto e vi mostro il PowerBook G4 Titanium. Andiamo di sotto, l'ho già spacchettato questa mattina, ora ditemi voi se ne potrebbe tranquillamente essere un MacBook Pro uscito quest'anno in titanio, no? Magari succederà che Apple torna a usare il titanio al posto dell'alluminio, ma non è successo ancora, l'ho fatto solamente per i nuovi iPhone. Però guardate il design, guardate che meraviglia che era. Allora, questo è il primo portatile di Apple che passa da un formato tipico, 4 terzi degli anni 90 per il monitor, a un formato più panoramico, un 16 decimi, no? È il primo portatile della mela che emette la mela per il verso giusto, e cioè girata verso chi guarda il computer e non verso chi usa il computer come era prima. E questa scelta qua, insomma, è stata molto caratteristica, perché quando andavi da uno Starbucks e qualcuno usava un computer della mela, tu lo vedevi e la mela era girata giusta. Prima di questo PowerBook c'era il PowerBook G3, che era un altro computer strepitoso, ma con un design completamente differente, in plastica, rotondeggiante, nero, modulare, bellissimo e potente. Ma quello era un computer che era completamente differente da questo, che invece, come vedete, ha un design per il 2001 incredibilmente moderno. Sono tantissimi dettagli che caratterizzano questo computer e che poi caratterizzano tutti quanti i portatili di Apple da quel momento in poi, in particolare la linea, diciamo, professionale. Vediamo, per esempio, le griglie sopra alle casse stereo a sinistra-destra della tastiera. Vediamo un touchpad molto grande, centrale, con un tasto unico. Vediamo i bordi, che sono incredibilmente sottili per l'epoca, una roba mai vista e che nelle release successive non si otterrà fino ai computer più recenti. Solo i MacBook Pro recentissimi hanno dei bordi qui così sottili e così simmetrici e perfetti. Le porte sono tutte nascoste sul retro del computer e non ai lati. In questa maniera i cavi, una volta collegati, non si vedevano mentre tu utilizzavi il computer. Ma come fare a mettere le porte dietro? Nei computer moderni non si mettono più le porte dietro, perché nella parte posteriore del computer va a finire il monitor, di solito. E quindi Apple si inventa, il design team di Apple. C'era già Johnny Hive, ma non aveva ancora quella importanza. Non si sa bene chi ha realizzato il design del Titanium. Si sa che ha partecipato anche Hive, ma è stata una roba molto collaborativa, che è durata tra l'altro molto tempo. Vi dicevo, le porte sono messe dietro. Ma com'è possibile? Se guardate il retro del computer, c'è addirittura una finestra qui, una chiusura che nasconde le porte quando non sono utilizzate. E una volta aperta fa anche da leggenda per le diverse porte presenti sulla parte posteriori. Ma come fa questo lato qua del computer a rimanere libero? Lo fa perché Apple e il design team di Apple si inventa una cerniera assurda, che sarà anche uno dei problemi più grossi di questo computer. Il monitor è collegato unicamente per queste due parti in titanio, per queste due cerniere in titanio, dentro alle quali passano i cavi di collegamento tra il monitor e il computer. E questo sarà un problema perché con il tempo girando, aprendo e chiudendo, quei cavi tenderanno o a scollegarsi o a rompersi e causeranno moltissimi problemi a questo così particolare computer. Però il risultato è che la parte posteriore è libera e quando aprite il monitor, il monitor fondamentalmente è sospeso sopra il computer. Completamente sospeso, una roba incredibile rivista oggi e impensabile per gli standard di oggi. Poi si decide di abbandonare l'uso della plastica e di abbracciare invece l'uso di un metallo per la creazione di questi computer, cosa per niente scontata per il 2001. Oltretutto si sceglie il titanio, che è un metallo, come accennavo prima, molto difficile da lavorare. Eh sì, sicuramente è molto leggero, ma una volta lavorato ha un colore non bello che non piaceva a Steve Jobs, per cui si decide di dipingerlo. Tutta la scocca di questo computer è in titanio, ma è titanio verniciato di due colori differenti. La parte esterna è verniciata in bianco, un perla bianco, e la parte interna invece è verniciata in argento. Successe che dopo pochi mesi i primi venduti cominciarono a scolorirsi, quindi la vernice veniva via fondamentalmente nelle parti che avevano un'usura più intensa. Questo stesso esemplare, che è tenuto davvero da dio per avere 22 anni, visto che è il primissimo, è proprio il primissimo uscito nel 2001, ha comunque alcune parti che si sono scolorite, ma se andate a cercarvelo su ebay o in qualche altro sito vedrete che la maggior parte sono completamente disintegrati, tutti scoloriti, molto brutti. Per questo ci ho messo tanto a trovarne uno decente fotografabile. Queste parti scolorite in questo modello le correggo senza problemi, in post produzione. Nonostante questi problemi, cioè si scoloriva, tendeva a rompersi la cerniera, addirittura non solo si rompeva il cavo dentro, ma si rompeva proprio la cerniera stessa in titanio. Il titanio è leggero, ma non è molto resistente, soprattutto quando è usato in questa maniera qua, che insomma sono punti di contatto che hanno un grande, che devono subire un grande sforzo, ma che sono molto piccole, per cui tendono a rompersi. Si rompeva la cerniera, si rompeva il collegamento tra il monitor e il computer, perdeva il colore, diventava molto brutto, perché si graffiava tutto quanto. Questi sono i problemi, però in realtà questo fu un computer che ebbe un successo straordinario. Le recensioni furono incredibili, decretò il successo della linea professionale dei portatili Apple, soprattutto per il mondo creativo e per chi faceva per esempio video editing, chi lavora molto con il video. Aveva una porta firewall integrata che gli permetteva di essere collegato direttamente a molte camere dell'epoca, per esempio per scaricare direttamente video. Lo stesso iTunes fu presentato nello stesso keynote del 2001. Quello era l'anno in cui Steve Jobs parlava del Mac come punto unico di aggregazione di tutti quanti i ricordi e i media delle persone, no? Le fotografie, i video, i documenti, tutto doveva essere poi messo dentro il Mac e il Mac era un po' il lab centrale. We are living in a new digital lifestyle with an explosion of digital devices. It's huge. And we believe the PC or more importantly the Mac can become the digital hub of our new emerging digital lifestyle with the ability to add tremendous value to these other digital devices. Digital hub, key phrase. Quindi era un centro multimediale potentissimo. Aveva il nuovo processore G4 che per l'epoca era incredibilmente potente, aveva una scheda dedicata di Ati che gestiva la grafica in maniera incredibile, sempre per l'epoca chiaramente. Aveva questo nuovo design super futuristico che piacque tantissimo e che poi, come vi ho spiegato, rimase anche nei modelli successivi quando poi nel 2003 si passò definitivamente all'alluminio, visti i problemi incontrati con il titanio. E diciamo che quel design rimase poi praticamente fino ai giorni nostri. Aveva anche soluzioni particolari, impensabili oggi. Guardate come si cambiava la RAM. È una roba che è incredibile. Praticamente la tastiera ha due tasti che, tirati indietro, non ci sono viti, basta tirare indietro questi due tastini e rivela l'interno del computer. Cioè ho semplicemente premuto due tasti, non ho svitato viti, ho premuto due tasti e ho in questo momento accesso alla RAM facilmente aggiornabile. Ora, questo esemplare che avete visto finora spento l'ho comprato come non funzionante, l'ho pagato anche relativamente poco, proprio perché ufficialmente è non funzionante. Quello che spero e che scopro adesso insieme a voi è se effettivamente non è funzionante. Perché il problema che ha, tra l'altro, guardate l'alimentatore di questo computer, vi ricordo a niente? Da questo computer i power brick di Apple prendono la forma attuale, con tanto di avvolgicavo. Incredibile, non sono cambiati di una virgola. È tanto di possibilità di cambiare la presa per i mercati internazionali. Assurdo, eh? 2001. Allora, stavo dicendo, secondo il proprietario precedente, quando lo colleghi non ricarica, ma il fondo qui del cavo di alimentazione si illumina di rosso, di arancione, infatti. Il problema è che ha questo computer, spero, dovrebbe essere facilmente risolvibile. Cioè, è rimasto spento per chissà quanti anni, magari 10 o 15 anni, e la batteria è andata in protezione. Ok, dovesse mai capitarvi, seguite quello che faccio io. Lasciamo collegato il cavo di alimentazione, che come vedete è ancora rosso. Giriamo il nostro Titanium, o Tybook, come veniva chiamato, con un nickname all'epoca, no? Perché gli iBook erano un po' i portatili di Apple, quindi Tybook da T-I, che è il Titanium, e iBook. Tybook veniva chiamato. Giriamo il nostro Tybook, scolleghiamo la batteria, che era rimovibile all'epoca, aveva anche qui il tasto per vedere quanto è carica, ed è completamente scarica. Quindi togliamo la batteria, come era piccola. E poi andiamo a svitare tutte le viti presenti, che sono 3, 6, 8. Ho preso anche un po' di botte questo esemplare, vedo, perché è bello ammaccato sotto. Ok, ora si riesce a sollevare la parte inferiore. Voilà, eccoci qua. Attenzione, perché il computer è ancora alimentato. Incredibile, però avete visto come con 8 viti, o quello che erano, sì, 8 viti, ho accesso a tutto quanto il computer in questo momento. Posso cambiare l'hard disk, che è qua. Manca purtroppo l'air card, che permetteva la connessione a reti Wi-Fi, però potrei installarla. E qui è disponibile il cavo per l'antenna, che finiva qua nelle parti laterali e aveva accesso all'esterno con due finistrelle in plastica attraverso il titanio. Quello che dobbiamo fare in questo momento è accedere sotto al CD-ROM, perché sotto al CD-ROM c'è la P-RAM. E noi dobbiamo fare un bel reset hardware della P-RAM, che è rimasta bloccata fondamentalmente e non sta facendo alimentare il computer. Vedete che è ancora rossa qua la luce. Quando quella luce diventerà verde avremo fatto il nostro lavoro per bene. Come si resetta la P-RAM? Semplicemente gli si toglie l'alimentazione fisicamente. Quindi dobbiamo fare un reset hardware della P-RAM. Per riuscire ad accedere alla P-RAM e alla sua alimentazione dobbiamo sollevare il CD-ROM. E lo facciamo tirando indietro qui la parte frontale e sollevando tutto il corpo in questa maniera. Lo solleviamo un po'. E sotto c'è la P-RAM collegata a questa scheda. E da lì prende l'alimentazione. Ora con molta delicatezza andrò a staccare l'alimentazione. E vedrete che, speriamo, vedrete che la luce passerà da rossa a verde. Vi ricordo sempre che questo computer è alimentato, quindi state attenti a quello che toccate. Ok, l'ho scollegato ed è diventato magicamente verde la luce. Molto bene. Adesso noi ricolleghiamo la P-RAM e dovremmo già avere risolto. La luce è rimasta verde. Ora posso anche togliere l'alimentazione, accertarmi che il CD-ROM sia montato bene. Risistemo per bene qua il cavo dell'antenna dell'Aircard. Ripiazzo il coperchio inferiore, che è un po' deformato ma fa ancora il suo lavoro. Riavvito le viti. Rimonto la batteria. Ricollego l'alimentazione. Molto bene, si è acceso. O perlomeno ha fatto il suono. Speriamo che non abbia il problema anche al monitor che... Ok, si sta accendendo anche il monitor perché, come vi dicevo, l'altro problema di questi computer era che si scollegava il monitor dallo chassis, quindi mi sembra collegato tutto quanto. È molto poco luminoso in questo momento perché avrà la luminosità al minimo, immagino. Non ha righe particolari. Già incredibile che si sia acceso, molto bene. Sapevo di quest'operazione ma non l'avevo mai fatta, per cui non era per niente scontato che funzionasse. E cazzo, si è già acceso e va alla grande. Epic, resuscitato. Trovate il PowerBook G4 Titanium e un sacco di altri oggetti interessanti appartenenti alla storia della tecnologia e dell'elettronica di consumo in Epic 2, il mio nuovo libro in uscita a dicembre. Preordinatito su itomi.shop. Questo è tutto per questo vlog, ragazzi. Grazie per avermi ascoltato fino a qui. Spero che sia stato interessante. Fatemi sapere nei commenti se avete dei dubbi o qualunque altra cosa. E noi non dovessimo più rivederci. Buon pomeriggio. Buonasera e buonanotte. Ciao giovani. Tra l'altro, essendoci Tiger installato e avendo una porta fireware integrata, dovrebbe funzionare relativamente anche una bella iSight, altro oggetto che trovate in Epic 2. Una cosa che racconto in Epic 2 è che aveva l'iSight diversi adattatori, uno dei quali era studiato per i portatili e aveva proprio questa vite che permetteva di adattarsi ai diversi monitor che erano più o meno sottili. Di base l'avevo già collegata a un iBook che ha il monitor molto grosso e non mi era servito avvitarlo. Invece in questo Titanium che ha il monitor incredibilmente sottile mi è servito appunto avvitare. Una delle cose che non ho detto prima infatti è quanto fosse assurdamente sottile questo computer rispetto ai suoi predecessori e rispetto agli altri computer portatili che c'erano a quell'epoca. Parliamo sempre del 2001, era un computer con uno spessore di un pollice, 2,5 cm. Assurdo! Qui dietro come vi dicevo prima ci sono tutte le porte e c'è anche la porta Fireware 400. Ha fatto il suo rumore tipico, l'iSight di autofocus, vediamo se funziona. Eccomi qua con la grande qualità delle webcam del 2001. Questa era una delle migliori, se non la migliore webcam uscita in quel periodo. Un design incredibile, autofocus, 640x480, un sensore di grandi dimensioni per l'epoca chiaramente e quindi insomma tanta 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 roba e funziona perfettamente chiaramente con questo PowerBook G4. Troverete anche iSight e tutta la sua storia su Epic 2.